ciao ragazzi per ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e quest'oggi riprendiamo dopo un po di tempo i consigli di guida per principianti oggi parliamo del punto di corda cioè cos'è e soprattutto come trovarla allora il punto di corda chiamato anche apex che cos'è allora non è soltanto l'interno di una curva non è un punto definito in modo casuale la corda è un punto immancabile in cui il pilota non può sbagliare e che andrà a definire e condizionare la vostra velocità d'uscita non entrerò nello specifico ma secondo me il punto di corda è interpretato come si deve essere riuscite a riunire più condizioni la base assoluta è basica ma necessariamente la più importante è uscire veloce perché la percorrenza veloce in curva è buono ma uscire veloce è ancora meglio sacrificare l'entrata vuol dire ottenere benefici in uscita ricordate che una curva condiziona un rettifilo che sia esso corto o lungo ed è questo che vogliamo ottimizzare uscire veloce vuol dire riaccelerare al 100 per cento il più rapidamente possibile ma come funziona pilotare e ridurre l'angolo delle curve anche se più o meno vero il punto di corda se osserviamo bene è estremamente preso in ritardo se taglio la curva in due ho praticamente annullato la curva nel momento stesso in cui inizio a riaccelerare perché perché rimettere il gas significa attivare un trasferimento di carico sul posteriore e quindi esporsi al fenomeno che tutti conosciamo del sottosterzo si nota bene con la tangente quando riaccelero l'auto punta già come si deve verso l'esterno rimettere il gas con le ruote sterzate vuol dire esporsi soprattutto con auto potenti al fenomeno del sovrasterzo scaturito dal patinamento delle ruote posteriori ma con questo punto di corda tardivo come abbiamo visto dall'alto il vostro volante è raddrizzato passatemi il termine al centro della curva e potete quindi riprendere ad accelerare quasi al 100 per cento al momento in cui puntate la tangente guadagniamo quindi in sicurezza ed in velocità d'uscita ora quello che vi farò vedere vi sorprenderà meno rispetto a se ve lo avessi descritto così d'entrata senza spiegazioni qui abbiamo un punto di corda in alto rispetto alla curva tagliamo bene la curva in due riduciamo l'angolo della curva nel frattempo siamo già alla corda non posso però ancora dare gas perché ho le ruote ancora sterzate con conseguente rischio di testa coda certo sono entrato più rapidamente guadagnando un pochettino sull'entrata ma sarò più lento a rimettere il gas al 100 per cento rispetto al punto di corda tardivo in questo punto di corda tardivo invece ci serviremo della frenata in appoggio che sostanzialmente consiste nel riprendere un po i freni per ridare aderenza all'anteriore quindi della fase neutra per fare girare l'auto e per far allineare praticamente all'uscita della curva cancellando almeno il 75 per cento di questa curva e quindi dando la possibilità di poter riaccelerare senza dover continuare a sterzare avendo così meno rischi di partire in testa coda dovuto alle ruote troppo sterzate posso quindi scaricare tutta la potenza disponibile al suono ovviamente questa teoria e questa tecnica varia in base alla categoria del vericolo quindi ragazzi nella speranza che questa piccola spiegazione di capire di come capire e trovare il punto di ricorda e come interpretarlo vi sia piaciuto e vi sia utile come al solito vi invito a lasciare un like a lasciare un commento iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto ciao